Bene, eccoci in questa nuova serata in cui riprendiamo le nostre lezioni online di dizione. Come state? Tutto bene? Allora, in questo momento stiamo per riprendere le nostre lezioni online, quindi sono contento di essere qui con voi ancora una volta per raccontarvi il mondo della dizione e come imparare a parlare con la voce che avete sempre sognato. Oggi parleremo delle vocali, le vocali aperte e chiuse. Dunque, quali sono e quante sono le vocali? Secondo quello che ci hanno insegnato a scuola, le vocali sono 5 e quindi sono A, E, I, O, U. Ecco, quindi sarebbero 5. In realtà le vocali nella fonetica sono 7 e questo perché non è che abbiamo due vocali in più, ma abbiamo due suoni in più. E sono la E aperta, E chiusa e la O aperta o O chiusa. Esaminiamo appunto quali sono queste vocali aperte e chiuse, cioè la E e la O, ma prima impariamo come si articolano queste vocali e quindi qual è l'apertura della bocca che ci permette di pronunciare una vocale piuttosto che un'altra. E dunque, la prima cosa da individuare è ovviamente il suono più semplice, quello della A. Perciò quindi apriremo la bocca in maniera che tutto sia facile e apribile in senso verticale. Se poi vogliamo pronunciare la E aperta dalla A, chiudiamo un po' la bocca e pronunciamo la E, E. Quindi A, E, E. Se vogliamo invece pronunciare la E chiusa, dobbiamo chiudere, appunto come dice stesso la parola, dobbiamo chiudere un po' di più la bocca. E quindi sarà A, E, E. Vedete? La bocca è leggermente socchiusa. Ma, per pronunciare la I dobbiamo chiuderla ulteriormente e quindi abbiamo A, E, E, I. Quindi la bocca è proprio socchiusa. Per quanto riguarda invece la O, quindi la O aperta e la O chiusa, si pronunciano così. Questa è la O, O, che corrisponde al verbo avere io, O, O, O. Se invece vogliamo pronunciare la congiunzione O, e quindi O, O, dobbiamo anche in questo caso chiudere un po' di più la bocca. Per poi arrivare all'ultima vocale che è la U, U, per la quale avremo ancora una volta sempre di più la chiusura della bocca. Ebbene, ciò che è importante ricordare in questo caso è che dobbiamo posizionare la bocca e articolare le vocali in base alla loro apertura. Ovvero sia, nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una E aperta, e l'esempio più facile è quello della terza persona, del presente indicativo EGLI-E, EGLI-E. Quindi la vocale E è aperta e ha un'apertura maggiore rispetto alla E, la E chiusa. La E chiusa è quella della congiunzione E, ad esempio ci sono delle parole o frasi tipo io voglio questo e quello, in cui c'è una tripla difficoltà perché bisogna dire questo con la E chiusa e con la E chiusa e quello, io voglio questo e quello. Quindi E, la bocca E più socchiusa, E. Approfondiamo un po' questo tema della E aperta e chiusa. La maggior parte dei miei allievi che hanno difficoltà con la E chiusa e che quindi dicono bene la E aperta sono Sardi, Calabresi e Siciliani. Ebbene sì, sia in Sardegna che in Calabria e anche in Sicilia la E è aperta quasi sempre. E quello che dobbiamo fare, che è molto difficile ma con i miei insegnamenti è possibile farlo in poco tempo ma con grande impegno, consiste nell'imparare, nel trasmettere a coloro che hanno soltanto le E aperte, il modo giusto per pronunciare invece la E chiusa. Quindi cominciamo dall'inizio, e cioè cominciamo a focalizzare la nostra attenzione su come si muove la lingua quando noi pronunciamo la E. Quindi nella E aperta di Egli è, cominciamo a pensare a come si muove la lingua. Egli è, se questa è la lingua, il suo movimento è Egli è, è, Egli è, è. Se invece utilizziamo la E chiusa per indicare la congiunzione E, abbiamo un movimento differente. Se nella E, E, la lingua, la punta della lingua tocca verso il palato inferiore, quindi E, invece nella E la lingua si ritrae leggermente E, E rimane a mezz'aria. Quindi non è né poggiata sul palato duro e né sul palato molle, ma si trova esattamente al centro. Quindi Egli è, e io voglio questo e quello. Quindi E, 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 E. Per poter pronunciare correttamente la E chiusa, quindi vi raccomando di focalizzare la vostra attenzione su come si muove la lingua. Perciò se nella E abbiamo E, la punta della lingua che batte E verso il basso, quindi il palato inferiore E e va a appoggiare poco prima dei denti dell'arcata, dei denti inferiori, E, invece nella E la lingua farà un passaggio leggermente all'indietro, quindi indietreggia, e la punta della lingua è sospesa a mezz'aria, quindi non è né inclinata verso il basso né verso l'alto, ma è appunto a me, si trova a metà strada. E, E, E. Come si fa a trovare la posizione della lingua per pronunciare la E? E quanto è complicato fare questo per chi come i sardi, i calabresi e i siciliani diventa veramente complicato? Come fare per aiutarli? Ok, allora, per quelli che in questo momento vogliono cimentarsi a pronunciare la E chiusa partendo dalla E aperta, dovete ricordarvi innanzitutto come è posizionata la E e che differenza c'è tra la E aperta e la E chiusa. Abbiamo detto che la E aperta, la lingua E si inclina e va a toccare il palato inferiore e va quindi a toccare lo spazio poco distante dall'arcata dei denti inferiore, invece nella E la lingua arretra leggermente e la punta si trova a mezz'aria. Come possiamo spiegare e far pronunciare la E chiusa da coloro che sono abituati a pronunciare la E sempre aperta? E, E. Come facciamo a spiegargli questo movimento? Che deve essere, deve far sì che la lingua indietreggi e che al tempo stesso la punta della lingua non batta verso il basso ma sia sempre a mezz'aria. Ecco, per fare questo, per chi ha difficoltà con la E chiusa, vi consiglio di concentrarvi su due consonanti che ci permettono di ricostruire qual è il movimento giusto da far fare alla lingua. Queste due consonanti sono la L e la N, quindi vi chiederò, cortesemente, di pronunciare una L. L, 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 L. Ok. Cosa succede quando pronunciate la L? L, L. La lingua va a toccare sul palato inferiore, quindi sarà L, 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 L. La punta della lingua va a toccare il palato superiore, L, 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 e va a toccare praticamente lo spazio retrostante, gli incisivi superiori, L, L. Ora, se vogliamo invece pronunciare la N, cioè la N, la lingua farà questo movimento. Allora, la L, L punta verso l'alto, la N, N, N. La lingua, anche in questo caso, arretra, N, L, N, L, N, L, N. Che succede quindi? Che mentre nella L la lingua, la punta della lingua tocca verso l'alto e quindi va proprio L a toccare il palato superiore, Nel caso della N, N, il movimento è più o meno simile, L, N, anche in questo caso la punta della lingua va a toccare sul palato superiore, ma la posizione è leggermente arretrata rispetto alla L, quindi L, N, L, N, L, N, L, N, L, N, OK? Perché vi sto invitando a focalizzare la vostra attenzione su questi passaggi? Perché sono fondamentali per capire la posizione della lingua quando si pronuncia la E chiusa. Infatti, se nella L abbiamo la punta della lingua rivolta verso l'alto che va a toccare il palato superiore, nella N abbiamo lo stesso movimento ma è più arretrato rispetto alla L, quindi L, N, L, N, ora la posizione che la lingua assume nel pronunciare la N e quindi il suo modo di arretrare e di posizionarsi al centro della bocca, N, quando pronunciamo la N, questa posizione della lingua è esattamente quella che ci serve per pronunciare la E chiusa. Dobbiamo però fare una modifica importante perché se nella N, N, la punta della lingua tocca il palato superiore, invece nella E la lingua rimane alla stessa altezza della N, quindi è utile posizionare la lingua ricordandoci di come pronunciamo la N, N, N. Ora, mantenendo la lingua nella stessa posizione, dobbiamo semplicemente abbassare la punta della lingua, ok? Quindi la lingua dovrà rimanere sospesa a mezz'aria nella bocca e quindi sarà E, 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 che è un movimento molto simile a quello che fa la N, N, soltanto che invece di andare a toccare sul palato, la lingua si abbassa, rimane morbida al centro e accoglie il suono della E, 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 E. Facciamo un piccolo riepilogo e quindi abbiamo detto che nella E, E, la vocale E, E, abbiamo la lingua la cui punta tocca verso il basso, E, e va quindi a toccare il palato inferiore E subito dietro l'arcata di denti inferiori, invece nella E la posizione della lingua è leggermente arretrata, ma lo è, E, E, e la punta della lingua non tocca sul palato ma rimane sospesa a mezz'aria, quindi non tocca né sopra né sotto ma rimane a mezz'aria. Per poter individuare la posizione della lingua nel pronunciare la E, fate un check utilizzando la lettera N, la lettera N, quindi pronunciato il suono N, N, nel pronunciare il suono N, la punta della lingua tocca verso l'alto, tocca il palato superiore e questa posizione della lingua è molto importante perché ci consente di memorizzare dove la lingua si trova all'interno della bocca. Vi ricordo che se nella L la lingua è un po' più in una posizione avanzata perché la L, la punta della lingua, va quasi a toccare gli incisivi superiori, quindi L, nel caso della N invece la lingua arretra e si posiziona sempre verso l'alto, va sempre a toccare il palato superiore, ma invece di farlo vicino agli incisivi come nel caso della L, la N, la N si ottiene posizionando la lingua sul palato nella parte intermedia, nel palato medio. Quindi se qua, se con la L la lingua si interpone, proprio va a contatto con il palato nella parte superiore e anteriore della bocca, invece nel caso della N, la lingua arretra rispetto alla L, quindi arretra la posizione della lingua e la punta della lingua tocca verso l'alto all'altezza del palato medio, quindi in una posizione intermedia rispetto all'apertura della cavità orale. Per quanto riguarda il suono della E, prendiamo in considerazione la posizione della lingua così come viene espressa nel pronunciare la N, 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 N. Quindi la posizione è esattamente questa. Solo per ottenere la E chiusa dobbiamo abbassare la punta della lingua. Nella N va a toccare sul palato superiore. Invece, per pronunciare la E, la posizione della lingua è esattamente la stessa della N, solo che la punta della lingua è in alto con la N. Qui invece la punta della lingua deve essere lasciata morbida a mezz'aria, quindi non tocca né sul palato inferiore né sul palato superiore, ma rimane esattamente nella parte media della cavità orale. Quindi abbiamo il suono della E, 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 E. Possiamo vedere adesso assieme alcune parole che si pronunciano con la E aperta e con la E chiusa. E quindi osserviamo il nostro manuale di dizione, una dispensa che io spesso utilizzo nei miei corsi e che certamente ci permette di capire qual è la differenza proprio sonora tra la E aperta e la E chiusa. Quindi condivido con voi lo schermo. Vi ricordo quindi che le vocali sono non cinque ma sette, cioè sono cinque dal punto di vista grammaticale, ma sono sette dal punto di vista della fonetica. Vi ricordo che i quattro punti dolenti della pronuncia italiana sono appunto la E aperta o chiusa, la O aperta o chiusa e poi in una seconda lezione parleremo anche della S, sorda o sonora, o della Z, sorda o sonora. Ora concentriamoci sulla E aperta, la E aperta e la E chiusa. Dunque, cominciamo con la E aperta. In italiano si ha sempre la E aperta nei casi seguenti. Nelle terminazioni verbali dei condizionali in EI, EBBE, EBBERO. Esempi. Vorrei, cadrei, verrei, tornerei, andrei, saprebbe. Ricordatevi, tutti i condizionali in EBBE sono sempre con la vocale E aperta. Saprebbe, vorrebbe, giungerebbe, finirebbe, direbbero, protesterebbero, griderebbero, partirebbero. Poi abbiamo i diminutivi in ELO e nei nomi che terminano in ELO, ELA, che in realtà sono ELO, ELA. E quindi BAMBINEELLO, SOMAREELLO, VINEELLO, STUPIDELLO, SIOCCHERELLO, ANELLO, CAROSELLO, CASTELLO, NOVELLA, PULZELLA, ZITELLA. Abbiamo la E aperta anche nei nomi che terminano in EMA. Ad esempio, tema, problema, teorema, schema, sistema, patema, poema. Abbiamo la E aperta nei nomi che terminano in ENDA. Agenda, azienda, faccenda, ammenda, tenda, vicenda, merenda, benda, leggenda. Abbiamo la E aperta negli infiniti in ENDERE, accendere, comprendere, difendere, estendere, fraintendere, prendere, rendere, tendere. Abbiamo la E aperta negli aggettivi in ENDO. Esempi, orrendo, stupendo, tremendo. Oppure, abbiamo sempre la E aperta nel gerundio in ENDO. Piangendo, uscendo, partendo, scendendo, salendo, dividendo, sottraendo, finendo. Abbiamo la E aperta anche negli aggettivi in ENSE, ENSO, ENTE, ENTO. Esempi, castrense, circense, estense, forense, denso, immenso, melenso, propenso, coerente, cosciente, effervescente, furente, attento, contento, lento, turbolento. Abbiamo poi la E aperta nel participio presente in ENTE, accogliente, balbuziente, diffidente, esauriente, fervente, impellente, piangente. Abbiamo la E aperta nei nomi che terminano in ENSA, coesistenza, cointeressenza, concorrenza, evanescenza, influenza, insolvenza, scadenza. Abbiamo poi la E aperta nei nomi e aggettivi in ERIO, ERIA. Esempi, criterio, desiderio, deleterio, semiserio, arteria, maceria, materia, miseria. Abbiamo la E aperta nei numerali in ESIMO, dodicesimo, sedicesimo, ventesimo, centesimo. Abbiamo la E aperta nei nomi e aggettivi in ESTRE, ESTRO, ESTRA. ALPESTRE, SILVESTRE, TERRESTRE, CANESTRO, CAPESTRO, MALESTRO, FINESTRA, GINESTRA, PALESTRA. Abbiamo la E aperta nelle terminazioni verbali in ETI, ETE, ETERO. Esempi, IO DETTI, dal verbo DARE, EGLI DOVETTE, del verbo DOVERE, ESSISTETTERO, del verbo STARE. Abbiamo poi la E aperta nei nomi in EZIO, EZIA. Esempi, LEZIO, SCREZIO, TRAPEZIO, FACEZIA, INEZIA, SPEZIA. Abbiamo la E aperta nel dittongo IE, CHIESA, DIECI, IERI, MIELE, PIEDE, CAVALIERE, CARRIERA, CORRIERA, MONGOLFIERA, VIENI. Abbiamo la E aperta, infine, nei nomi tronchi d'origine straniera, quali aloe, bignè, bignè, attenzione, quindi aloe, bignè, caffè, canapè, canapè, tè, 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 tè. Queste sono un po' tutte le principali parole che devono essere pronunciate con la E aperta, anzi la E aperta. E a tal proposito vorrei sottolinearvi alcuni di questi termini che abbiamo appena visto insieme e che vi possono essere utili soprattutto per correggere molte inflessioni dialettali. Prendiamo le terminazioni verbali dei condizionali in E, Ebbe, Ebbero. Secondo le mie esperienze e anche in base agli allievi che ho avuto in questi anni, chi ha difficoltà con i condizionali in Ebbe, Ebbero sono soprattutto quelli che vivono al sud e anche per esempio i romani che hanno un problema inerente al fatto che non riescono a pronunciare i condizionali in E, Ebbero con la E aperta. E infatti molto spesso dicono direbbero, protesterebbero, griderebbero, partirebbero e sono tutte parole che invece vanno dette con la E aperta. Quindi attenzione, per chi ha un accento del sud, per chi vive nelle regioni del sud e anche a Roma, vi ricordo che i condizionali in E, Ebbe, Ebbero sono sempre aperte, la vocale E è sempre aperta. in casi quali vorrei, cadrei, berrei, tornerei, andrei, saprebbe, vorrebbe, giungerebbe, finirebbe, direbbero, protesterebbero, protesterebbero, griderebbero, partirebbero. Secondo, appunto, ancora la casistica che ho individuato in questi anni, vi posso dire che, ad esempio, molti hanno difficoltà nel pronunciare i numerali in esimo, perché i numerali in esimo molto spesso vengono letti come, con la E chiusa, dodicesimo, sedicesimo, ventesimo, centesimo. Questo è quello che avviene soprattutto al sud, invece al nord le E sono tendenzialmente più aperte e quindi perciò la maggior parte delle E aperte vengono rispettate nella parlata settentrionale e invece al sud la E aperta diventa in certi casi più problematica e in altri casi invece diventa addirittura proprio la vocale prediletta soprattutto da sardi e calabresi. Perciò ricordatevi che quando incontrate un numerale in esimo, la E è sempre aperta, quindi abbiamo dodicesimo, sedicesimo, ventesimo e anche la parola centesimo. Altra cosa importante sono le terminazioni verbali in etti, ettero, io detti, io detti, egli dovette, essi stettero. Ecco, stettero è un'altra... le terminazioni verbali in ettero sono delle terminazioni che fanno cadere anche i più bravi, anche quelli che conoscono bene la dizione, poi si perdono quando incontrano parole tipo stettero oppure sedettero, dove la E bisogna pronunciarla aperta. Quindi ricordatevi, detti, dovette, stettero. Altra cosa da ricordare molto importante soprattutto per chi è campano, in Campania il dittongo IE viene pronunciato con la E chiusa, invece dobbiamo imparare ad aprire la E e quindi dobbiamo far sì che nel dittongo IE si senta l'apertura della E. E quindi non sarà chiesa, dieci, ieri, miele, piede, cavaliere, carriera, corriera, mongolfiera, vieni, ma sarà al contrario chiesa, con la IE aperta, la E è aperta quando c'è il dittongo IE, chiesa, dieci, ieri, miele, piede, cavaliere, carriera, corriera, mongolfiera, vieni e così via. Dieta, tutto ciò che ogni volta che troviamo il dittongo IE dobbiamo ricordarci che la E è aperta. Bene, abbiamo esaurito in questo momento le casistiche riguardo la E aperta, adesso passiamo alla E chiusa, E, E. Vi ricordo la posizione della lingua nella E chiusa, partendo dalla E, la cui posizione E prevede la lingua E, la punta della lingua che tocca verso il basso, quindi nel palato inferiore, mentre invece nella E la lingua è più arretrata rispetto alla E aperta, quindi nella E chiusa la posizione della lingua E più arretrata, E, E, e la punta della lingua si trova a mezz'aria, quindi non tocca né sul palato superiore né sul palato inferiore. La E chiusa. In italiano si ha sempre la E chiusa nei casi seguenti, nei monosillabi, ad esempio, questo è un problema riguardo alla E chiusa, che hanno soprattutto calabresi, sardi, siciliani, e anche molti che abitano al nord, perché c'è la tendenza a dire che, me, re, te, tre. Su tre c'è anche contagiato molto la buonanima di Mike Buongiorno quando diceva volete la uno, la due o la tre? La tre, invece si dice tre, quindi mi raccomando. In questi monosillabi, che, me, re, re sovrano, perché re la nota si dice con la E aperta, quindi re sovrano, te, pronome personale, tre numerale, mi raccomando utilizzate sempre la E chiusa, quindi che, me, re, te, tre. Passiamo poi ai polisillabi tronchi con la E accentata. Finché, già che, perché, trentatré, merce. Soprattutto al nord, ma anche in alcune regioni del sud, e specie in Calabria e in Sardegna, solitamente si dice finché, già che, perché, trentatré, merce. Ricordatevi invece che in questi polisillabi tronchi con la E accentata, quindi finché, già che, perché, trentatré, merce. Dovete sempre ricordarvi di utilizzare la E chiusa. Finché, già che, poiché, è un altro polisillabo troncovo, la E accentata, trentatré, merce. Abbiamo la E chiusa anche nei nomi aggettivi terminanti in eccio. Esempi, casa reccio, cicaleccio, mangereccio, pate reccio, billereccio. Nei nomi in effice abbiamo ancora la E chiusa. artefice, carnefice, orefice, pontefice. La E chiusa anche nei nomi in eggio, eggia, dileggio, posteggio, sorteggio, oppure in verbi come dardeggia, disormeggia, occhieggia, villeggia. Poi abbiamo la E chiusa anche nelle forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erono. Esempi, temei, volesti, poti, dovemmo, sapeste, crederono. Attenzione perché in questa, in queste forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erono, ci cadono in tanti. qualcuno dice temei, temei, temei è molto calabrese, osato, temei, invece temei, con la E chiusa. Volesti, volesti, anche qui la E chiusa, potè, no potè, ma potè, attenzione al nord, potè, invece potè, dovemmo, dove, no dovemmo, dovemmo fare questo, in Sicilia dovemmo, no dovemmo, con la E chiusa. sapeste, no sapeste, sapeste calabrese, invece sapeste, crederono, crederono, anche questo accade un po' in tutto il sud, dalla Campania in giù, comunque ricordatevi che è importante utilizzare la E chiusa quando incontriamo queste forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erono. Abbiamo la E chiusa anche nell'infinito dei verbi in ere, ad esempio, bere, cadere, potere, sapere, sedere, temere, tenere, vedere, e quindi, non dobbiamo dire, con la E aperta, come si dice soprattutto in Calabria, bere, cadere, oppure anche in Sicilia, potere, sapere, o in Sardegna, sedere, temere, tenere, vedere, no, dobbiamo dire con la E chiusa, bere, cadere, potere, sapere, sedere, temere, tenere, vedere. Abbiamo la E chiusa anche nei nomi in Esa, attesa, difesa, distesa, contesa, impresa, offesa, sorpresa. abbiamo la E chiusa negli aggettivi in Esco, ariostesco, ciarlatanesco, donchisciottesco, giullaresco, marinaresco, studentesco. Abbiamo la E chiusa anche nei nomi in Esa, cortese, francese, inglese, maionese, marchese, mese, paese. La E chiusa anche nei nomi in Esa, dottoressa, duchessa, contessa, principessa, scommessa. Nelle forme verbali in Essi, esse, essero, sapessi, volessi, credesse, leggesse, facessero, dicessero. La E chiusa anche nelle forme verbali in Ete, farete, cadrete, godete, piangete, potrete. La E chiusa anche nei nomi e diminutivi in Etto, Etta, architetto, bozzetto, foglietto, poveretto, stretto, tetto, arietta, casetta, baglietta, burletta, civetta, fossetta. Abbiamo la E chiusa anche nelle forme verbali in Eva. Attenzione, questo è molto importante. Credeva, non credeva, credeva, mordeva, sapeva, scriveva, voleva. Quindi ricordatevi, nelle forme verbali in Eva, credeva, mordeva, sapeva, scriveva, voleva, aveva, dobbiamo sempre utilizzare la E chiusa. La E chiusa l'abbiamo anche negli aggettivi in Evole, e non è amorevole, arrendevole, conversevole, mutevole, piacevole. No, sarà invece amorevole, arrendevole, conversevole, mutevole, piacevole, scorrevole, strabocchevole, sveinevole. Poi abbiamo la E chiusa nei nomi in Ezza, ad esempio, amarezza, bellezza, compitezza, delicatezza, giovinezza, finezza, tristezza. Abbiamo la E chiusa negli avverbi in mente. Attenzione, questo è molto importante, soprattutto per i campani, perché hanno la tendenza ad avere tutti gli avverbi che terminano in mente con la E aperta. E quindi in campania si dice agilmente, balordamente, civilmente, distrattamente, elegantemente, fruggevolmente, gioiosamente, implacabilmente, implacabilmente, liberamente, loquacemente, ed è quello che poi si dice anche in regioni come la Sicilia. E invece ricordiamoci che negli avverbi in mente, e ricordiamoci che sono all'incirca duemila vocaboli, questi avverbi in mente sono diffusissimi, e quindi già imparare questa regola ci permetterà di avere un controllo su almeno un duemila parole, ricordiamoci che quando incontriamo gli avverbi in mente la E sempre chiusa. e quindi si leggerà agilmente, balordamente, civilmente, distrattamente, elegantemente, fuggivolmente, gioiosamente, implacabilmente, liberamente, loquacemente. La E chiusa anche nei nomi in mento, esempi, abbigliamento, casamento, esaurimento, fidanzamento, sfollamento. La E chiusa la troviamo anche nelle forme verbali in remo, rete. Esempi, diremo, sapremo, sogneremo, farete, vedrete, berrete. Nella terminazione in esimo, attenzione, dei nomi però astratti, quali cristianesimo, feudalesimo, incantesimo, protestantesimo. Ecco, abbiamo individuato, quindi, insieme, quali sono le parole, le terminazioni verbali, e anche le desinenze, i suffissi di tante parole che appartengono alla lingua italiana e che, secondo le regole della fonetica, devono essere pronunciate con la E aperta o la E chiusa. e a questo punto non ci rimane altro che rimandare il prossimo appuntamento all'elezione successiva in cui vi parlerò, invece, della differenza tra la O aperta e la O chiusa. Grazie. 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 Grazie.